ben ritrovati a tutti i carissimi amici chitarristi questa sera siamo qui con un altro fantastico preset di mark knoffler parliamo del suono live di you and your friend realizzato con pedaliera head rush e simulazione di due ampli soldano che alla fine sono quelli che suonavano più vicino al suono originale mi raccomando se il suono e il preset vi piace cliccate un grandissimo like nel video non dimenticate di iscrivervi al canale e vi do una novità assoluta in anteprima a brevissimo il preset sarà disponibile sulla piattaforma di head rush per chi eventualmente vuole scaricarselo stay tuned e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti